quindi adesso andiamo in uno spiazzale di bari vecchia incontriamo qualche ultra scomato che esce il virus dalle tette eh vabbè la puttana di turno fa ancora la puttana e arriva l'uomo uccello guarda matrix ma oh mio dio adesso scopri che è trinity perchè ha visto matrix vogliamo risposte qual è la risposta alla domanda 12 del test numero 17 e questo è us il mio cattivo preferito non è vero quel vecchietto che somiglia ancora a un giovano ma quanti anni hai? non lo so te lo ricordi wesker? quello che ha lo sito di quello che si muore come matrix si adesso la sconcertante verità è vero lo so lo so è vero e chi cazzo sta? beh oh ciao e io me la ricordavo be' una cazzo stana è vero non è vero non è vero che cazzo chi è appunto si ed ecco che il padre marco oh my god è morto christo posto quindi gioco a barbaccia inutile che ci trova manco per il cazzo ecco ma questa resta di storia si è io si suonare adesso si è un po' oh my god eh che cazzo da mare per una volta che stavano per vincere siete più potenti facciamo una pinta un'oggiata con massimo vabbè cico c'era che ho due contro due vedi che una ragazza di molte parole però bisogna dirlo sì infatti 7 minuti io me ne vado di qua dove? dove? eccolo oh merda oh oh ok questo era giusto per mostrarvi quante forte Wesker esamina è chiusa aiuto oh ecco questa è sparta l'ha detto lui quindi io ne cazzo sinceramente me la daria a gamba sì infatti io direi che ce la stiamo dando a gamba e lei dice che ci stiamo nascondendo chissà chi ha ragione noi due sta dicendo l'idiota di due no lo so quindi adesso io e Sheva andiamo a trovare tesori nascosti nella piramide del faraone eccolo sì prima di occuparti di Jill torna qua e dammi una mano sennò mi vengono delle ernie giganti e leo hawk una pistola che io ho già quindi inutile che prendo e uno snare ah ah ciao è tutto vero oh cazzo dov'è Sheva? non se ne doveva occupare lei di Jill balla a prendere guarda che sì è in arrivo guarda il momento cos'è questo? ah ah oh diritto nell'occhio oh sì quanto mi piace adesso via fotto si incazza secondo me si ciao Sheva ah Sheva torna secondo me si arrabbia nel senso che si incazza come un animale dov'è ah sta venendo da quella parte bene vieni vieni ecco è il mio urlo di battaglia questa risposta ah 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 oh sì oh sì oh cazzo oh cazzo oh meno male oh merda l'ho visto vicino ah sta semplicemente ciao Sheva come Sheva che cazzo sei sta semplicemente impazzendo Wes che bene beh vabbè col mio maxi pistolone sono finiti di 7 minuti boh mi aspettavo una sfida più di più cosa che ti ho trabattuto è un uomo deficiente mezzo ma se mi erano è una cabina telefonica non vedi che era occupato e giri wow ecco questa l'ho vista a fare a Gekichan l'ultima volta wow e questa invece è da Ada ti ricordi quando abbiamo fatto separate ways beh e durante solo una puntata ha fatto la stessa cosa che si vedeva sotto la gonna presente adesso ritorna a parlare al telefono si mi sta accennando che ho l'afferta prima ma come solo i due euro io sono il padrone del mondo inizia a ricordare qualcosa tipo che ha lasciato acceso il tubo del gas cosa boh ecco il cellulare di nuova generazione si anch'io ciao guarda un po' di poli amatoriale ed ecco cosa servono i telefonini di oggi a far spogliare le ragazze sì solo che a lei non è riuscito che bella collana dove hai presa dai marocchini anna pure s e se è solo di si scusate non fare il giangelo ok fico ho trovato qualcosa cuore io posso regalarti ma certo troia questo faceva maestro fa male adesso devo se l'ha bloccata e adesso è il mio turno puttana dai vai che ce la fai vuoi un po' di gioco al concetto che la vuoi ma si è ovvio che la voglio ma perchè viene sempre da me dove scappa torna qua non voglio farti male svegliati troia ecco mi domando come esista Chris a tutte quelle pedate dello stomaco o più in basso addirittura si togli quel cazzo di coso ecco un'altra pedata avanti qua vedo che cazzo qua vedo che cazzo qua vedo che cazzo